ciao a tutte pecorelle buongiorno e bentornati sul canale oggi vi propongo un piccolo tutorial uncinettoso davvero facilissimo molto veloce per realizzare una piastrella una mattonella che io sto amando tantissimo perché finalmente ho trovato la quadra per lavorare la mia prima borsa granny rivestendo un'anima di juta una borsa in juta che ho comprato chi di voi mi segue sa già di che cosa sto parlando ho trovato questo motivo che non è nuovo non ho inventato nulla assolutamente anzi è un modello di mattonella molto comune molto presente sul web però essendo mi piaciuto davvero così tanto ho deciso di condividerlo con voi di proporvelo anche sul mio canale perché magari qualcuno di voi ancora non non lo conosceva non lo conosce io trovo che sia veramente un modello molto elegante molto raffinato io devo ancora cucine il codino di fine lavoro però insomma chissene l'importante è vedere bene come si presenta la mattonella una volta terminata io ho aggiunto anche un bordino di punti bassi volendo si possono realizzare delle mattonelle non solo in cotone per rivestire appunto una borsa ma anche in lana o misto lana quindi anche la dimensione si amplia ulteriormente per lavorare una bella coperta per il letto un plaid per il divano ecco perché vi dicevo che secondo me è un motivo molto bello e molto versatile perché potete sfruttarlo davvero per tanti usi diversi io spero che questo tutorial vi piaccia vi possa incuriosire interessare soprattutto che vi possa essere utile per lavorare magari qualche progettino con delle piastrelle ora il nome antico salice l'ho inventato puramente perché ho combinato due nomi che ho trovato sul web che designano questa piastrella perché in alcuni tutorial americani le ragazze lo chiamano willow e willow vuol dire salice altre lo chiamano antique quindi antico per non saperne leggere né scrivere la mano ha fuso i due nomi anche se non credo che questa piastrella nasca con il nome antico salice ma a me piace moltissimo quindi per me da ora in poi sarà la piastrella antico salice bene io vi lascio al tutorial non mi dilungo troppo in chiacchiere superflue filato io ho utilizzato del cotone e l'ho lavorato con uncinetto misura 3 e mezzo voi utilizzate il filato che volete perché dipende appunto che cosa ci dovete realizzare poi avremo bisogno delle solite forbici e dell'ago da lana per cucire i codini di inizio e termine lavoro ok vi lascio al tutorial noi ci vediamo per i saluti finali allora per prima cosa prendiamo il nostro filo e abbiamo un cerchio magico per chi non volesse fare il cerchio magico può sostituirlo con quattro catenelle chiuse a tondo nella prima catenella con un punto bassissimo e poi lavorare all'interno del del forellino bene a questo punto lavoriamo 3 catenelle 1 2 e 3 all'interno del cerchio magico lavoriamo ora 15 punti alti 1 e così via ci rivediamo alla fine dopo aver lavorato il quindicesimo punto alto che assieme alle 3 catenelle di inizio lavoro formano in tutto 16 punti alti dopo aver lavorato i 15 punti alti stringiamo il cerchio magico tirando leggermente il filo fino a che appunto non stringiamo bene il nostro cerchio ora chiudiamo questo primo giro puntando l'uncinetto nella terza catenella e chiudendo con un punto bassissimo ora per il secondo giro lavoriamo 4 catenelle 1 2 3 e 4 perché 3 sono per alzare il livello e la quarta è a sostituire uno spazio filo sull'uncinetto ci portiamo nel primo punto alto che abbiamo lavorato nel primo giro e lavoriamo un punto alto dopodiché catenella di separazione ci spostiamo nel punto alto successivo entriamo e lavoriamo un punto alto catenella di separazione di nuovo ci spostiamo nel punto alto seguente e ci lavoriamo un altro punto alto quindi non saltiamo alcun punto proseguiamo per tutto il giro lavorando un punto alto in corrispondenza del suo punto alto sottostante e tra un punto alto e l'altro lavoriamo una catenella di separazione terminiamo questo secondo giro con l'ultimo punto alto lavorato nell'ultimo punto del primo giro e una catenella e poi chiudiamo con il solito punto bassissimo ho lavorato come vedete il mio ultimo punto alto ora faccio la catenella di separazione punto l'uncinetto nella terza catenella di inizio giro una due tre e chiudo con un punto bassissimo e abbiamo così terminato anche questo secondo giro per il terzo giro alziamo il lavoro di tre catenelle una due e tre fino sull'uncinetto ora entriamo nello spazio del giro sottostante tra le tre catenelle di inizio giro e il primo punto alto entriamo nella prima asola e lavoriamo due punti alti poi lavoriamo un punto alto nel punto alto corrispondente del del giro sotto e di nuovo ci portiamo ora a lavorare i due punti alti nello spazio formato dalla catenella di separazione tra un punto alto e l'altro e di nuovo punto alto nel suo punto alto corrispondente e procediamo così per tutto il giro e terminiamo questo terzo giro lavorando gli ultimi due punti alti nello spazio formato dalla catenella di separazione l'ultima che abbiamo lavorato tra il punto alto e le catenelle di inizio giro e ora devo chiudere il giro chiudo con un punto bassissimo nella terza catenella di inizio giro bene ora iniziamo il quarto giro facendo una catenella e nello stesso foro da cui stiamo uscendo rientriamo e lavoriamo un punto basso dopodiché lavoriamo 5 catenelle 1 2 3 4 5 ci portiamo saltando la coppia di due punti alti lavorati nell'asola ci portiamo in corrispondenza del punto alto lavorato a colonna e lavoriamo un punto basso e formiamo questo ponticello poi lavoriamo 2 catenelle di nuovo saltiamo la coppia di punti alti lavorati nell'asola ed entriamo nel punto alto a colonnina entriamo e lavoriamo un punto basso poi lavoriamo 3 catenelle 1 2 3 saltiamo nuovamente la coppia di punti alti entriamo nel punto alto a colonnina di nuovo 2 catenelle e di nuovo saltiamo la coppia entriamo nel punto alto a colonnina e lavoriamo un punto basso ora dobbiamo ripetere lo stesso passaggio che abbiamo fatto per creare il ponte d'angolo che è quello più grande quello formato da 5 catenelle e ne avremo 4 in totale ai quattro angoli quindi di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 5 saltiamo la coppia di punti alti e ci portiamo nel punto alto a colonnina entriamo e lavoriamo un punto basso dopodiché cosa dobbiamo fare dobbiamo ripetere lo stesso passaggio lo stesso lavoro che abbiamo fatto per creare questi tre ponticelli lavoriamo due catenelle punto basso in colonnina 3 catenelle altro punto basso in colonnina saltando sempre le coppie di punti alti lavorati nell'asola 2 catenelle punto basso in colonnina poi facciamo il terzo angolo con il ponte d'angolo con le 5 catenelle e procediamo così fino alla fine del giro termino con le ultime due catenelle e ora entro nella catenella che abbiamo lavorato a inizio giro chiudo con un punto bassissimo dopodiché ora io mi devo spostare all'interno di questa asola per lavorare il quinto giro come devo fare devo camminare facendo un altro punto bassissimo nel punto basso che abbiamo lavorato inizio giro e un ultimo punto bassissimo all'interno dell'asola formata dalle 5 catenelle così sono in posizione all'interno dell'asola per poter iniziare il nuovo giro e lavoriamo 3 catenelle 1 2 3 all'interno dell'asola lavoriamo ora un modulo di 4 punti alti che con le 3 catenelle di inizio giro formano il modulo di 5 punti alti quindi in totale come se avessimo 5 punti alti poi dobbiamo lavorare 3 catenelle 1 2 3 e nello stesso arco nella stessa asola ora lavoriamo 5 punti alti e questo è il modulo angolare ok questo è il modulo d'angolo che dovremo ripetere in tutti e quattro gli angoli compresi quindi 3 rimanenti ora proseguiamo lavorando un punto basso nell'archetto nell'asola formata dalle 2 catenelle dopodiché nell'archetto centrale quello più grande formato dalle 3 catenelle lavoriamo 5 punti alti e di nuovo punto basso nell'archetto formato dalle 2 catenelle ora a filo sull'uncinetto ci ritroviamo a lavorare nell'arco grande nell'asola formata dalle 5 catenelle e di nuovo dobbiamo quindi lavorare il modulo angolare 5 punti alti 3 catenelle 5 punti alti ecco qui ho lavorato il mio secondo modulo angolare vedete 5 punti alti 3 catenelle di separazione 5 punti alti tutto ciò che ora ci rimane da fare per questo quinto giro sarà di replicare gli stessi passaggi quindi punto basso nello spazio formato dalle 2 catenelle 5 punti alti nell'archetto formato dalle 3 catenelle di nuovo punto basso speculare nell'archetto delle 2 catenelle ci ritroviamo a lavorare l'altro angolo il terzo 5 punti alti 3 catenelle 5 punti alti e così via procediamo allo stesso modo fino a ritrovarci a doverci congiungere con le 3 catenelle di inizio giro vi faccio vedere come terminare questo giro noi ci fermiamo con l'ultimo punto basso lavorato nell'archetto formato dalle 2 catenelle e poi chiudiamo il giro terminiamo con l'ultimo punto basso e ora terminiamo con un punto bassissimo nella terza catenella di inizio giro e abbiamo così chiuso e completato il nostro quinto giro ora per iniziare il nostro sesto giro dobbiamo portarci nell'asola d'angolo formata dalle 3 catenelle quindi cosa facciamo? camminiamo punto per punto lavorando in ogni punto un altro punto bassissimo fino a ritrovarci qui nell'angolo bene ora lavoriamo una catenella e un punto basso sempre nell'asola dopodiché lavoriamo 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo sempre nell'asola un punto basso e questo sarà il modulo d'angolo del sesto giro ovvero un punto basso 3 catenelle 1 punto basso ora cosa dobbiamo fare? dobbiamo lavorare 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 filo sull'uncinetto entriamo nel punto basso sottostante e lavoriamo un punto alto dopodiché lavoriamo 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il gruppetto centrale di 5 punti alti entriamo nel terzo quindi contiamo 1 2 3 e di nuovo punto basso di nuovo specularmente ora 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto entriamo nel punto basso e lavoriamo un punto alto e specularmente ora dobbiamo di nuovo lavorare le 5 catenelle e il modulo d'angolo quindi 1 2 3 4 5 ci portiamo nell'asola d'angolo entriamo e lavoriamo un punto basso 3 catenelle 1 2 3 e punto basso sempre nell'asola d'angolo e abbiamo così completato un lato ora dobbiamo ripetere gli stessi passaggi per gli altri tre lati procediamo allo stesso modo per tutto il giro e noi ci rivediamo alla chiusura di questo sesto giro con le ultime 5 catenelle ok sono arrivata quasi al termine del giro ho lavorato l'ultimo punto alto in corrispondenza del punto basso sottostante ora lavoro le mie ultime 5 catenelle 1 2 3 4 5 e ora entro nella catenella di inizio giro entro e chiudo con un punto bassissimo dopodiché entro nel punto basso e di nuovo punto bassissimo e poi devo camminare di un altro passettino quindi un altro punto bassissimo all'interno dell'asola perché da qui quindi dall'asola delle 3 catenelle devo iniziare il settimo giro lavoriamo 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto all'interno dell'asola lavoro 2 punti alti 1 e 2 lavoro 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dell'asola lavoro 3 punti alti 1 2 e 3 e il modulo d'angolo per questo settimo giro sarà 3 punti alti 2 catenelle 3 punti alti ora come procediamo lavoriamo nell'asola formata dalle 5 catenelle lavoriamo 5 punti alti poi nell'asola formata dalle 3 catenelle lavoriamo 3 punti alti e lavoriamo sempre in modo speculare di nuovo nell'asola successiva abbiamo 3 catenelle quindi lavoriamo 3 punti alti e di nuovo ora abbiamo l'asola grande formata dalle 5 catenelle quindi dobbiamo lavorare 5 punti alti ora ci ritroviamo di nuovo a lavorare il modulo angolare quindi 3 punti alti 2 catenelle 3 punti alti e procediamo lavorando allo stesso modo per tutto il giro quindi vi ripasso un attimo i punti nell'asola da 5 catenelle 5 punti alti nelle asole formate dalle 3 catenelle dobbiamo lavorare per ciascuna 3 punti alti quindi 3 e 3 e di nuovo specularmente abbiamo l'asola formata dalle 5 catenelle al cui interno lavoreremo 5 punti alti poi ci ritroveremo a lavorare di nuovo il modulo angolare all'interno dell'asola d'angolo sottostante lavoriamo 3 punti alti 2 catenelle 3 punti alti e così per tutto il giro noi ci fermiamo dopo aver lavorato i 5 punti alti nell'asola formata dalle 5 catenelle prima di chiudere il giro ci congiungeremo poi semplicemente con un punto bassissimo nella terza catenella e avremo così terminato il settimo giro ok sto terminando il giro lavoro i miei ultimi 5 punti alti bene ora chiudiamo il giro come vi dicevo con un punto bassissimo nella terza catenella bene la nostra mattonella può dirsi conclusa anche così io aspetto a chiudere definitivamente il lavoro tagliando il filo perché volendo si può rifinire con un ultimo giro di punti bassi semplicemente lavoriamo una catenella dopodiché entriamo in ogni punto alto sottostante e lavoriamo un punto basso cioè niente di che ecco quando ci ritroviamo a lavorare l'angolino entriamo e lavoriamo 3 punti bassi 1 2 e 3 e naturalmente ci stiamo già girando poi di nuovo entriamo in ogni punto alto e lavoriamo un punto basso procediamo per tutto il giro ci ritroviamo lavorando l'ultimo punto basso nell'ultimo punto alto dei cinque del settimo giro e chiudiamo entrando nella catenella nella catenellina che abbiamo fatto per alzare il lavoro di quest'ultimo giro e chiudiamo con il solito punto bassissimo dopodiché tagliamo il filo estraiamo l'uncinetto e tutto ciò che poi ci rimane da fare è di cucire i codini di inizio lavoro quello del cerchio magico e di fin del lavoro se il forellino del cerchio magico tenderà un pochino durante la lavorazione ad allargarsi è normalissimo niente di che prendiamo il filo del cerchio magico e tiriamo leggermente vedete che il forellino si restringe dopodiché con la godalana cuciamo sul retro del lavoro il codino lo fermiamo con un piccolo nodo bene amici il mio tutorial di oggi termina qui io vi ringrazio tantissimo come sempre per essere stati in mia compagnia anche oggi vi mando un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima ciao